Spero che nel nuovo Ghost of Tsushima si senta il peso di essere una donna del Giappone feudale, quello l'avevo detto anch'io Solair. Per questo molte volte mi incazzo quando si parla spesso inutilmente di Wok, perché la gente ha visto che il primo Ghost of Tsushima c'è stato un uovo, nel secondo c'è stato una donna, ha urlato Wok. Quando in realtà, se tu mi fai una cosa con il 1600, il Giappone feudale e una donna, puoi fare delle cose veramente fighe come in Blue Eye Samurai. Se tu mi fai vedere anche poi la parte cruda di essere una donna e di come lei combatte contro questa roba, è figo. Cioè tu mi fai vedere che lei magari se veste da uomo, si mette il binder perché lo facevano per nascondersi, si mette la maschera e a un certo punto anche accetta sta cosa e fa delle azioni. È figo, bellissimo appunto in Blue Eye Samurai come se veste in tutto un modo perché se no viene sottovalutata. Poi ti fa vedere come le donne capiscono anche in che situazioni sociali si ritrovano ma cercano comunque di fare un po' di gioco lì in mezzo, no? Cioè cercano di manipolare, di dire comando io e in molti casi appunto tu c'hai quella che rinuncia, che accetta la sconfitta. Dall'altra parte c'hai personaggi come Yuzu, c'hai tante tante cose. Per questo quando appunto la gente semplicemente urla Wok io ci rimango un po', raga che due coglioni. Ma non tanto perché appunto io capisco che c'è lo spauracchio di Concord. Cioè la gente c'ha paura che tu mecherei sta roba che è una merda fumante, il cui unico significato che vuole trasmettere il siamo Wok. Mi chiamo Shier, Hihim e no io mi sento di sto genere e compagnia. Che ripeto, non c'è niente di male, eh. Cioè se una persona si sente Hihim e invece biologicamente è una donna e compagnia, quello se tu mi aggiungi pronomi è bello. Però non deve diventare neanche al contrario che appena tu vedi una donna parte che i fiacco le va a accendere il fuoco. Da mo se un attimo una carmata, addio Cristo. Io sono intricato anche dal fatto che nel 1600 cominciano a sbucare i primi moschetti, cominciano a giare le prime influenze degli altri stati che si cercano di insinuare nel Giappone. E' interessante come periodo storico, eh. Ma il fatto è che molte volte le persone ci hanno paura. Soprattutto oggigiorno c'è molto quella roba del voler mettere i paraocchi alle persone. Io continuerò sempre a dirlo, in una qualsiasi opera, non in un videogame, in un'opera il dramma, tra virgolettoni, l'astio, il brutto, il nero, non me bannate, è la parte bella. Cioè se tu mi mostri una storia dove tutto è bello, tutti sono giusti, tutti sono leali, tutto incredibile, fantastico, io mi cacco i coglioni. E' semplice la cosa, perché? Perché non ci sta mordente, non c'è quella cosa che ti fa dire ok, abbiamo delle motivazioni per cui muoverci. Per questo a me piaceva anche un botto, mi è piaciuto tantissimo Dragon Age Origins, perché Dragon Age Origins ogni tanto ti infilava in mezzo quelle tematiche e te le faceva anche in modo crudo. Ma come tanti altri giochi, e purtroppo oggi questa cosa si è andata a perdere, perché? Perché appunto sembra quasi che i player siano dei bambini a cui bisogna portargli la manina, o ci deve essere per forza, no, guardate, in realtà l'omofobia, il razzismo, il classismo, il nonnismo, tutte queste cose non esistono, esistono. Ed è bello che tu appunto mi crei come in Persona 5, che proprio ti mostra la merda della società giapponese e altre robe, tu mi mostri quella cosa, e anzi mi ci fai anche appassionare perché io ci vado contro, dio madonna. Tanti Final Fantasy, più che il boss di per sé, tu affronti un concetto, tu affronti una filosofia a cui vai contro con tutto te stesso, no? No, bisogna fare che tutto è bello. Quando parlo anche cose come in Veilgard, che io ho ricevuto dei commenti in privato, che ho commentato in modo negativo le cicatrici dell'operazione al seno, io non ho commentato negativamente di per sé le cicatrici. Perché lasciamo per tutti i bordelli a livello dei magie, soldi, cazza pippoli. Però se tu mi fai una roba del genere, che tra l'altro è una di quelle robe che va a toccare degli argomenti per cui la gente ci si ammazza e tutto quanto, se devi fare sta cosa, la fai fino in fondo. Mi metti una gamba che salta, un braccio che me manca, un occhio ciecato, delle cicatrici veramente grevi e tutto quanto. Si erano potuti risparmiare un sacco di ondate di merda che per carità del cielo sarebbero arrivate, esagerando, perché tu comunque ce l'hai personaggi come Niv, che gli manca una gamba. Perché a me non può mancare una gamba? Visto che tu mi hai introdotto appunto sta cosa delle protesi. Flexalo! Perché se l'inquisitore c'ha la protesi al braccio con cui fa cazza pippoli, io non la posso fare? Perché a te ti interessava semplicemente prenderti, tra virgolettoni, quella fetta a cui vuole fare il personaggio con le cicatrici, che è biologicamente donna, però si sente appunto him, e basta. Ed è un peccato. Anche perché poi Dragon Age appunto c'ha quella profondità della magia del sangue, la magia curativa, e gli spiriti cazza pippoli. Sembra come se le persone hanno sempre paura, gli sviluppatori, di mostrarti il crudo delle cose. Perché io capisco poi che se tu fai un gioco per bambini, o fai Astro Bot, in Astro Bot non me ne frega un cazzo del crudo. Però se tu mi stai a caccia fuori Veilgard, mi cacci fuori Skyrim, mi cacci fuori un sacco di GDR, un Fallout, un Warhammer e tante altre cose, devi farlo fatto bene. Warhammer non è fiorellini, è razzismo, xenofobia all'estrema potenza, veramente nel senso più puro. Per esempio Detroit Become Human c'ha delle scene che so grevi, o in uno dei finali c'è questa tipo sorta campo de concentramento, che te li prendono tutti quanti, li spogliano, gli tolgono la texture della pelle, sono tutti bianchi con i bambini anche, gli buttano le discariche. Cazzo, quello averci le palle di dimostrare qualcosa. Cazzo, quello averci le palle,